qual'è la mia distinzione personale della cup america 2019 il giocatore pastesi assist non dici bene sono il più titolare della storia del club quanti quante squadre ho giocato prima il mio primo club quante convocazioni ha avuto in anzale meno di 30 qual'è il mio soprannumero chi è il mio idolo in Bocoschimers ricambi andiamo a quanti partiti ho giocato con il polizio in Germania? eeeh 370 molto meno? si molto molto? no tui 300 però 348 un po' meno 45 un po' meno 43 un po' meno? si qual'è il mio soprannumero quando ero bambino? possibile pianto pianto ahahah come era? così cebolita 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 che significa? c'era una squadra in tv che se chiamavano più uscita io c'avevo la macchina e tu sai quanti followers mi seguono su instagram? no apposta ahahah oggi posso chiedere il gagnezzo dimmi il soprannumero quando ero arrivato al Boc prima squadra professore perchè hai detto questo che mi diceva il nome? eh però non era con chi è inizia? come il cognome mio poi io ahahah ah come era? fare 10 ah fare 10 fare 10 sì